Comprendere tutto il lungo e complesso ITER che porta da un'idea a un'ipotesi alla scoperta e alla disponibilità di un farmaco è un percorso, un viaggio lungo e affascinante, molto interessante. È un percorso fatto di anni, di sforzi, di lavoro, di ricerca, di grossi investimenti e spesso di grandi insuccessi perché come sappiamo cercare non vuol dire necessariamente trovare e quindi è un percorso dove l'insuccesso è all'ordine del giorno. Il corso Eupati è tutto questo viaggio ma arricchito dell'esperienza dei pazienti. È un percorso interessante da osservare da un punto di vista professionale ma lo è altrettanto da un punto di vista del cittadino comune e a maggior ragione da parte del paziente. Il corso Eupati si svolge attraverso un formato FAD e attraverso degli incontri e delle lezioni frontali e si avvale di esperti davvero capaci e abili nel trasmettere concetti complicati e complessi in modo che sia comprensibili da persone non esperte. Personalmente lavoro e mi occupo di salute come giornalista scientifico da tanto tempo, da tanti anni eppure frequentando il corso paziente esperto di Eupati ho avuto la possibilità di approfondire degli argomenti e di comprenderne bene altri. Quindi è un'esperienza molto positiva. Mi aspettavo tanto da questo corso, le mie aspettative erano alte ma devo dire che il corso è all'altezza delle aspettative e l'altro aspetto molto interessante è la relazione con gli altri discenti. Il corso appunto mira, è un progetto europeo che mira a preparare i pazienti, i cittadini ad essere esperti nell'area appunto dello sviluppo di un farmaco e quindi riuscire poi a portare il proprio contributo che ormai sappiamo che si tratta di un contributo estremamente prezioso e in maniera costruttiva nei tavoli dove serve. Quindi è una bellissima esperienza. Grazie.